ecco qui abbiamo appena ricevuto la camera e questa qui ve la faccio vedere velocemente questo è il bagno doccia ecco qui e da questa parte c'è la camera luce questo qui per appoggiare e valigie uno specchio la televisione questa scrivania con un puff poi c'è un divano con questi due cuscini e poi ecco qui la parte del letto ecco qui il letto sì lì c'è un armadio che devo ancora vedere perché sono appena entrata ecco qui ok ho l'ora di svuotare le valigie e di togliermi scarpe mettermi guardate questo è un piccolo balcone necessario ma adesso vi faccio vedere la vista guardate qui che cosa c'è un enorme piscina queste belle palme guardate quanti posti mamma mia voglio mettermi in costume scendere anche io siamo arrivati proprio adesso e alle sei e mezzo partire dalle sei e mezzo delle sei e mezzo fino alle 21 e 45 c'è la cena e siccome ancora non abbiamo mangiato quasi niente avrei un bel po di fame quindi mi sa che questo sarà la prima volta la prima primo giorno che mangeremo proprio presto vedo la c'è anche una cosa di biliardo insomma è tutto da scoprire ragazzi tutto da scoprire è tutto da scoprire ragazzi tutto da scoprire ragazzi tutto sarebbe Grazie a tutti. 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 E per continuare leggerezza... Friggono sul momento. Grazie a tutti. Ma la particolarità è questa. Quindi iniziamo direttamente... cioè iniziano direttamente... con un... 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 Dopo lo mangerò sicuramente. È strano che ci sono molti dolci oggi, perché di solito ce ne sono molti la sera. Proprio la sera che si ingrassa, che il dolce non riesce a essere smaltito e smaltisce con difficoltà. Adesso però faccio vedere agli altri ketchup. Varie salse, limone, pesce, cucinano sul momento e poi qui ci sono altre cose. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.